Allora, partiamo dagli Juventini, perché se siete onesti, cosa che dubito, perché un Juventino onesto è difficile ritrovarlo, ma se siete onesti dovete ammettere che fino a 15 minuti, alla fine della partita, cosa cazzo avete fatto? Cosa avete fatto? Io nel mio video ieri sera ho detto che la Juve non ha fatto nulla, ed eravate in 11 contro 10. Ma continuo a confermarlo, perché voi avete quei tiri che avete fatto, perché c'è uno che mi ha mandato le statistiche, abbiamo fatto 7-8 tiri, ma quando li hai fatti? A 15 minuti alla fine? Quando il Milan era scoppiato che era dal quarantesimo del primo tempo che giocava in 10? E tu a 10-15 minuti alla fine hai cominciato a tirare in porta? Questa è la Juve? Io continuo a confermare che siete imbarazzanti e continuo a ripetere che se eravamo in 11 contro 11, il Milan la vinceva la partita, perché non ho visto un brutto Milan. Non ho visto un brutto Milan, ripeto, perché con tutte le sfighi di questo mondo poteva andare peggio. Partiamo dal Milan che non aveva Mignon, partiamo dal Milan che non aveva Ternandez, partiamo dal Milan che non aveva Loftus Chic, partiamo dal Milan che si è dovuto... Pioli che si rinventa dei cambi allucinanti. Partiamo dal fatto che il Milan rimane in 10 dal quarantesimo del primo tempo. In tutta questa merda non ho visto un bruttissimo Milan, ma, ma, ho visto una Juve imbarazzante. Perché chi mi scrive, abbiamo fatto 7 tiri in porta, tu li hai fatti a 10 minuti dalla fine della partita. Perché anche dopo il gol, che è arrivato su deviazione di Krunic, non hai fatto niente. Non hai fatto niente. E non è che hai fatto sto partitone, siete imbarazzanti da guardare. Diavoli rossolieri, tifosi della squadra... Non posso dire più capolista, perché non sei più la capolista. Tifosi della squadra più bella del mondo, bentornati sul canale, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like. Perché è tutto completamente gratuito. E anche se non siamo più la capolista, contenti lo stesso, felici lo stesso. Vaffanculo, tanto campionato è ancora lungo. Siamo lì tutti attaccati a un punto di differenza. Adesso c'è l'Inter, Milan e Juve che ci pressa. Non facciamone un dramma, ragazzi. Non facciamone un dramma, perché la partita già non partiva bene. Col fatto che ci mancava il nostro portierone, anche se comunque ieri non ha fatto male il portiere del Milan. Partiamo dal fatto che la sfiga continua con gli infortunati. Partiamo dal fatto che non c'era Teo. Partiamo dal fatto che... Ciao, ciao! Chiamatelo come volete. Secondo me commette lo stesso identico errore che commette nel derby con Turano. Ve lo ricordate? Quando si fa sovrastare da Turam? Stesso identico errore. Io non voglio fare polemica perché non ho voglia di fare polemica, se no andiamo a sbattere sempre nelle solite storie. Però una cosa la devo dire. Mr. Pioni, io non ho capito i cambi di ieri, sinceramente. Quando tu mi togli Giroud e mi fa entrare Jovic, un fantasma fino a... Piuttosto preferivo un Ocafor, mi aspettavo un Ocafor. Perché tu fa entrare Jovic, un fantasma, una partita così importante. Ho capito che c'è la Champions League da giocare tra qualche giorno, però io quel cambio l'ho capito come... non ho capito altri cambi che hai fatto. Però basta. Con sta difesa alta, basta. Perché la difesa alta può funzionare in alcune partite. Ma quando ci sono questi big match contro queste squadre e poi metti ciao a fare l'uno contro uno quando becca giocatori fisici come Turam, come Keen, non va bene. Non va bene. Io spero che tu... Cioè, prima o poi la capisci questa cosa. Perché lo stesso errore che commette nel derby commette anche ieri. Cioè, sull'uno contro uno va molto in difficoltà. Poi tagliamo la testa al toro perché io non voglio fare quello che ho visto tanti che ieri sera youtuber, tifosi, tutto quanto continuano a dire la partita è stata polemiche su polemiche per l'espulsione. Ma ragazzi, ma l'espulsione c'è. Cioè, almeno secondo me c'è. Perché se stiamo a guardare il regolamento Keen quando supera il difensore del Milan crea una chiara occasione da gol. Cioè, lui punta a porta dritta per dritta. Andava in porta. L'errore secondo me è il difensore del Milan che se è ancora 0-0 piuttosto di prendere l'espulsione al quarantesimo del primo tempo non lo so prova in qualche modo a fermarlo piuttosto portalo verso la porta magari non segna magari fa gol non lo so però fare un fallo del genere è un po' da pirla, no? Cioè, rischi comunque l'espulsione così al quarantesimo del primo tempo è un po' da pirla magari lo portavi verso la porta in qualche modo riuscivi a non lo so a fermarlo senza fare fallo o magari tirava e non segnava non lo so secondo me l'errore grave è stato cinturarlo così sapendo che sia al quarantesimo del primo tempo e lì scatta l'espulsione perché è chiara occasione da gol quindi non facciamo come gli interisti e come gli giuventini è come mister Pioli perché ultimamente mister Pioli in conferenza stampa cerca sempre delle scuse come ieri ha cercato le scuse delle ammunizioni a me non piace trovare scuse io dico che l'espulsione c'era l'errore è stato del difensore del Milan però ripeto secondo me con un po' di cazzimma con un po' di cazzimma anche in dieci si poteva vincere perché questa Juve qua è imbarazzante è imbarazzante io non so la Juve come fa a trovarsi dietro di noi io non ho ancora capito non ho ancora capito comunque ragazzi adesso c'è la Champions League non pensiamoci più il campionato è lungo è tutto aperto siamo a un punto di distacco uno dall'altro quindi partite sono ancora tante no? ci sarà tutto il tempo per recuperare la prossima mi sembra che se non mi sbaglio c'è il Napoli rientra qualche d'uno e vediamo come va però prima c'è il Paris Saint Germain partita importantissima su con la vita vi voglio bene a tutti e sempre forza diavolo grazie a tutti